Padova sempre più smart, al passo con i tempi e la tecnologia che cambia. Internet ormai parte della vita quotidiana della maggior parte della gente. Le connessioni sono fondamentali, sempre di più i territori che offrono liberamente l'utilizzo di linee Wi-Fi. Da qualche giorno sono stati attivati altri 8 nuove punti Wi-Fi della rete gratuita Padova Web che vanno ad aggiungersi agli altri già attivi da tempo in tutta la città. Si tratta di Piazza del Duomo, Piazza del Santo Via Cappelli, Parco Iris e Via Canestrini, Parco Milkovic, l'interno del Palazzetto Arcella, l'area esterna del quartiere Due Nord di Via Curso, la chiesa di Altichiero, chiesa di Santa Teresa di Gesù Bambino in Via dei Salici. Il vice sindaco Eleonora Mosco ha spiegato che Padova è seconda in graduatoria dopo Gorizia per la banda larga mobile e l'innovazione proseguirà. Lo scopo è rendere Padova costantemente più tecnologica e al passo con i tempi, dando la possibilità ai cittadini di usufruire di questa ormai indispensabile fonte di informazione, anche fuori dalle mura domestiche, nei parchi, nelle piazze e nei luoghi di aggregazione. Entro fine anno verranno attivati, spiega ancora il vice sindaco, implementando e aumentando la copertura e la qualità della rete, anche i siti delle tre piazze del centro, di piazzale e stazione, il piano terra e il primo piano del centro culturale Altinate San Gaetano, nonché tutta l'area esterna lungo Via Altinate e Via Alessio e l'interno dell'isola Memmia di Prato della Valle. Il servizio può essere utilizzato dall'utente con qualsiasi mezzo che si possa collegare alla rete Wi-Fi, che in questo caso è denominata Padova Web. Sul sito www.padovanet.it sono indicati tutti i punti Wi-Fi gratuiti della città.